Gli LSU delle più calabresi sono stagio della guerra tra Movimento 5 Stelle e Lega, una dimostrazione plastica di questa situazione paradossale si è avuta ieri nel corso dell'incontro convocato al Ministero del Lavoro che ha visto la partecipazione dei rappresentanti sindacali calabresi al termine di un confronto durato oltre un'ora. La sostanza è la mancata risoluzione positiva dell'avvertenza. I tecnici del di Castero, retto da Luigi Di Maio, alla riunione era presente unico fra i politici, il sottosegretario pentastellato Claudio Cominardi hanno mostrato disponibilità ma si sono dovuti sostanzialmente arrendere di fronte all'evidenza dell'incomunicabilità tra il Ministero del Lavoro e quello della funzione pubblica, un impasse che rende impercorribile al momento ogni ipotesi di stabilizzazione degli oltre 4.500 precari storici impiegati negli enti locali calabresi. In un altro emendamento verrà incentivata la mobilità territoriale tra comuni. In buona sostanza si favorirà il via libera al trasferimento di risorse umane negli enti locali che ne facciano richiesta. E poi ancora è intenzione del Ministero del Lavoro agevolare l'essodo volontario dei dipendenti in possesso dei requisiti per la pensione. I rappresentanti sindacali Maurizio Petriccioli e Luciana Giordano, Cisle FP, Enzo Musolino della Cisle, Sonia Nuccio e Vincenzo Laurito di Cigelle, Nidel, Gianvincenzo Petrassi della Guiltemp e Aurelio Monte dell'USB, così come l'assessore regionale al lavoro Angela Robbe, hanno pure invocato deroghe alla stabilizzazione dei lavoratori perché oggi siamo di fronte a comuni che presentano disponibilità finanziaria per assumere personale ma non hanno spazi nella pianta organica o viceversa enti locali con caselle vuoti in organico ma senza fondi necessari per procedere alla stabilizzazione. A questo proposito è stata chiesta ai vertici burocratici del Ministero l'erogazione di un contributo straordinario in favore del Comune e ciò dopo che la giutta regionale calabrese ha approvato la legge per la storigizzazione delle risorse in favore degli LSU e le PU si tratta di circa 39 milioni all'anno. Si naviga a vista in ogni caso e le soluzioni prospettate non lasciano tranquilli i delegati delle organizzazioni sindacali e entro la fine di giugno il tavolo della trattativa tornerà a riunirsi probabilmente allargato ai rappresentanti del Ministero della Funzione Pubblica, del Lanci e delle conferenze delle Regioni.